Signori, benvenuti nel secondo appuntamento della giornata Invito ad andare a recuperare la prima parte, altrimenti non capireste niente Detto questo, buona visione e un bel like tattico Ok, ho appena scoperto che i cartelli non si possono accumulare in più di 16 Per volta, ma va bene così Va bene anche così Allora, sul terzo blocco, quindi 1, 2, 3, ci vanno i cartelli Eh no, non devo scriverci niente Ok, così Fino in cima Ah, attenzione C'è la gesta e dopo mi devo organizzare Allora, ovviamente penso che lo sappiate meglio di me Penso che lo sappiate meglio di me Sulla, sulla soul sand La soul sand ci vanno Le fonti d'acqua, se no Se no Non prende Non sono capace di fare queste robe Allora Quindi Cartello E fonte d'acqua Cartello e fonte d'acqua Cartello e fonte d'acqua Ci rivediamo quando ho finito pure questa cosa Dovremmo andare di 5 blocchi di qua Vediamo 3, 4, 5 E giusto, sì 1 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 E giusto lì E sesto E poi ci mettiamo Un'altra cosa Di un altro sistema No 1, 2, 3 4 E il quinto Ok Su vai via E questo L'ha fatto anche sotto Che devo scavare E va bene E al sesto Ci fa un cartello Che blocca il corso di acqua E poi si fa Il sistema Di caduta Contiamo i blocchi Se sono giusti E poi... E poi risunken Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora signori, tecnicamente avrei finito di costruirlo. Ora, se non schianto, prova a togliere un po' di torce. Ti spera di non schiantare. Già iniziano. Da quello parte. Allora. Allora. E... Che palle. Scappo, scappo. Scappo, scappo, scappo. Via. Ah, no. Se non schianto. Sono riuscito a tornare per fortuna che sono iniziati a spawnare due milioni e mezzo di scheletri. Ma va bene. Qui sta anche. Allora, dov'è lo spawner? Maledetto. Dove ho finito di togliere i blocchi. E... Dai, manca solo quello, manca, dai. No. Ovviamente, vanno fuori e quindi andanno dal sole. Quindi adesso dovrei concludere la chiusura dov'è? Ciò dall'altra parte. E ecco qua. Il nostro spawner quasi, ripeto, quasi finito. Pietre. A me, scudo, devo fargli un cappello. Perché... Altrimenti poi i scheletri pigliano danno. Tanto la pietra ne abbiamo quanto se ne vuole. Tanto abbiamo visto che, teoricamente, funziona. Quindi... No! Pezzo di merda! Ma dai! Adesso gli do un tocco di spawner con questi blocchi qua che ho recuperato dall'inizio. Ok. Questi non penso mi servano. Quindi li posso anche togliere. Beh, ho gli ultimi utilizzi che ho di questo peppiccone in diamante. Allora. Dunque. Gli ancora cadono. Cadono vivi, cadono. Allora ok. Allora ok. Quasi one hit. Dai, ok. A posto. Ok. La farm posso dire che è conclusa. L'ho fatto... Ci ho provato. Insomma, funziona. Rimangono... Qua praticamente one hit. L'unica cosa è di trovare un modo più facile per arrivare alla... Alla stanza del... The Killing, insomma. Ma questa sarà in un prossimo episodio. Sto registrando da davvero un sacco di tempo. Quindi direi che per questo video è tutto. Ci vediamo ad un prossimo video. Io vi saluto. Mi raccomando. Commentate, condividete, iscrivetevi. Fate tutte queste belle cose. Si sta facendo la notte un'altra volta. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.